Dopo l'attacco hacker che ha messo in ginocchio il sistema informatico della ASL1, uno dei temi è quello della vulnerabilità dei sistemi informatici di grandi aziende o enti che gestiscono una mole di dati enorme e sensibile, che vanno dunque protetti in maniera adeguata, proprio per evitare quello che è accaduto all'Aquila. Se le analisi forensi permetteranno di capire bene cosa è accaduto, la notizia è che questi attacchi hacker ormai si susseguono o comunque i tentativi, così come è accaduto al sistema della regione prima, della provincia dell'Aquila poi, che però nonostante il tentativo di attacco è riuscita a sventarlo. A darne notizia è proprio il presidente della provincia Angelo Caruso che spiega l'accaduto. Noi avevamo già da tempo messo a punto un sistema che blindasse l'informatica della provincia dell'Aquila, tra l'altro anche l'ingaggio di personale qualificato è stata anche questa una manovra, un'azione fondamentale perché proprio con grandi professionalità siamo riusciti a mettere a punto questo sistema di protezione. La segnalazione ci è arrivata dalla polizia postale, che stava già indagando su quello che stava accadendo parallelamente presso l'AS e la regione Abruzzo, però diciamo all'esito dell'accertamento che si è compiuto, di indagine, si è potuto verificare che il sistema va già resistito e respinto a tutti gli attacchi hacker. È importante quindi investirci in tecnologie, in sistemi di protezione perché gli enti, le aziende sanitarie hanno dati poi sensibili e ci possono essere problemi seri come quello che sta accadendo. Sì, evidentemente la parte più delicata, quella che oramai viene presa di mira, che è capace di determinare un sconvolgimento del sistema, spesso finalizzata alla paralisi e alla sottrazione di dati, che è il nuovo modello di terrorismo, quindi di attacchi a cui dobbiamo sicuramente prestare la giusta attenzione. Non è semplice, non è sicuramente possibile rilassarsi perché l'evoluzione sia della tecnologia che quella della pirateria rimangono affiancata e quindi l'una deve fronteggiare l'altra, quindi evidentemente c'è un impegno straordinario, costante e continuo che non consente distrazioni.